Marcos, una rimonta eccezionale, per te due gol, una serata quasi perfetta, anzi perfetta anche perché avvicinava tantissimo il Bolzano ai play-off. Sì, abbiamo fatto una partita bella, una partita che per noi era importante, che l'abbiamo vinta, abbiamo preso i due punti che, come già detto, erano veramente importanti. Ecco, una grandissima prova anche in penalty kill. Sì, abbiamo giocato il penalty kill veramente bene, l'abbiamo giocato aggressivo, come ce l'ha detto l'allenatore, è andata bene. Non solo dal punto di vista del cuore questa sera, che comunque c'è stato, perché recuperare la 3-1 c'è anche questione di cuore e testa, ma si è visto anche un Bolzano mostrare un gioco molto bello a tratti. Sì, giochiamo aggressivi e sì, come l'hai detto te, eravamo dietro 3-1 e poi ancora gli ultimi cinque minuti nel secondo tempo fare due gol era sicuro la cosa decisiva per vincere la partita. Comunque restate concentrati perché c'è il Graz, che è ancora una sfida importante e cruciale. Sì, certo. Adesso domani ci alleniamo di nuovo e martedì c'è la partita contro il Graz, che è anche importante. e anche a questo domani ciò che abbiamo preparato ai due kńici al centro per la tendencia sceneggiata e che la persona era conserva appuntata, ma compagnie di tutto arribo. Già, che già breakthrough che il Guillaise costo grande, per favorente attre riduzza Folditola e 10 importanti cost libera su prancezza. Per quello che non succederebbe essere depermi la stessa prima, ma repentina di partecipare il viaggio per la distante di qua, però la stiamo aiutita con il rumore. Grazie a tutti.